Parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il silenzio. Di questo si è discusso oggi nel Salone degli Specchi della provincia nel corso di un incontro promosso dal Lions Club Messina Colapesce che ha abbracciato il progetto nazionale Martina e dall'Associazione Onlus Fabrizio Ripa di Firenze. Marina Bottari. Si è parlato di alleanza tra medici, istituzioni e famiglie per far fronte alle numerose problematiche a cui bisogna far fronte quando un bambino si ammala di tumore. Hanno unito allora le loro forze il Lions Club Messina Colapesce che come in tutta Italia porta avanti il progetto Martina, nato nel 2000 per volontà di una ragazzina colpita da tumore al seno, e l'Associazione Fabrizio Ripa, un ragazzo di Villa Franca Tirrena che a 15 anni è stato colpito dal sarcoma di Ewing, un grave tumore osseo che dopo un lungo ricovero all'ospedale medico, di Firenze è un calvario di cure amorevoli e disperate, lo ha portato alla morte dopo un anno. Sostegno morale, psicologico sul malato, aiuto alle famiglie, iniziative benefiche, massima sensibilizzazione e quanto si vuole ottenere con questo tipo di progetti per combattere il silenzio su queste gravi malattie. I tumori infantili non si può ancora tacere? I tumori infantili non bisogna tacere, sono una realtà fortunatamente rara, perché stiamo parlando fortunatamente di una malattia rara, ma pur nel raro ci sono circa 1500 casi di tumori infantili all'anno in Italia. Che cosa può fare la società? La società può e deve garantire come per tutte le malattie un accesso diretto e fortunatamente fino a che il nostro ordinamento legale e amministrativo lo consentirà gratuito a tutti i bambini a malattie di tumore. Associazione Martina, Progetto Ripa, purtroppo sono nomi di giovani che hanno avuto queste grosse problematiche, non sono più tra noi, quindi unirsi nel loro ricordo? Assolutamente sì, noi dichiariamo una alleanza terapeutica fra i tecnici, le famiglie, le associazioni di service, le associazioni genitori, le associazioni di supporto, ma io dico sempre anche con gli amministratori, che non devono essere la nostra controparte, ma devono essere i nostri alleati, perché abbiamo bisogno di ospedali e di reti sanitarie regionali intelligenti e oculate, che gestiscono accuratamente la spesa, ma che certamente non facciano mancare ai bambini a malattie di tumore tutto quello che serve a loro per andare al target che gli deve essere dovuto, cioè la guarigione e il ritorno alla loro vita adulta.